Benvenuti nella cucina di Gilda. Che facciamo Gildarella oggi? Andiamo a vedere un po' che c'è. Ciao amori miei, allora oggi mi preparo un piattino per me che mi piace tanto. Cominciamo a vedere. Allora questo è il salmone, questo è il salmone norvegese, eccolo qua, in busta, va bene? Allora qui c'è un po' di scaglie di parmigiano, melograno, olio e pepe. Va bene? Allora adesso, guardate questo è un piattino ma proprio semplice che a me mi piace troppo, io lo mangio così perché mi piace proprio tanto, tanto, tanto. E' buono per tutte le occasioni. E' come no, io questo, mo vo dico, a Natale mo faccio sempre. A Natale. Ma però, pure quando viene gente. Quando viene gente, certo. Pure quando non vi è gente, se lo facciamo eh. Ma io lo faccio spesso insomma. Perché è proprio buono. Per piatto mio. Ecco qua. Voilà. Eccolo qua, guardate, è semplice semplice. E qui dovete fare proprio niente. Va bene? Allora mettiamo un pochettino, toglietto così adesso. Allora, poi mettiamo due granellini. Guardate, più semplice di questo non esiste niente. Due granellini, eccoli qua. Voilà. E poi mettete due scagliette, anzi no, mettiamo prima il pepe. Ma fa vedere. Eh sì. Ecco, poco poco eh. E poi mettete qualche scaglietta di parmigiano. Eccola qua. Così, proprio semplice semplice. Eccolo qua. Piattino semplice e buono. Voilà. Non aggiungete altri ingredienti. Perché questo va mangiato così, che è buono così. Sennò si rovina tutto il piatto eh. Ma vi ho detto. Ecco fatto. Allora. Ecco qua. Se scagliette. Allora. Adesso rimettiamo un po' d'olio. Eccolo qua. Ce vuole eh? Non mi guardate storto perché ce vuole eh? Ma chi te guarda storto a te. Ma come si fa guarda storto a te. Allora. Adesso mettiamo un pochino di aceto balsamico. Eccolo qua. Così. Ma proprio pochissimo. Ecco qua. Due gocce. Coglio, coglie a messa extra. Coglio extra. Certo. Eccolo qua. E questo io adesso lo faccio riposare. Un'oretta. Due. Che si riposa bene. Che l'aceto penetra dentro. È favoloso. Un piatto favoloso. Fatelo perché è troppo buono eh. Mi raccomando perché è semplice e buono. Guardate quanto è carino. Come si presenta bene. Va bene? Come antipastino. Questo è delizioso. Delicato. Antipastino. Un secondo. Come vi pare a voi? Questo è un piatto che io ce tengo tanto. Non me lo cambiate eh. Va bene? Ma no. Se rovina no? Dopo perde il gusto. Invece così. Ecco. E' al bacio raga. E' perfetto. Perfetto. E' proprio favoloso. Vabbè amori miei. Guardatelo bene. Gitarè. E se guardiamo un altro po' qui te lo mangiamo tutto eh. Questo è mio. E' mio. Magno tutto. Ecco. Allora amori miei. Io adesso vi mando tanti baci belli. Sempre dal cuore. E' dalla cucina di Gilda. E lo sapete che vi amo tutti. E piatto ricco. Mi ci ficco. Allora amori. Grazie a tutti